È capitato parecchie volte qui in casa di andare sotto, perché con la Cremonese, perché con il Bologna, perché con il Sassuolo, perché con la Sampdoria, è capitato diverse volte in andare sotto e è possibile che l'energia del nostro stadio, se posso dire della nostra gente, abbia un impatto forte su una squadra giovane, che vive di entusiasmo, di momenti e quindi magari in casa affronti le difficoltà in un modo diverso, non lo so, perché poi al di là delle partite molto difficili affrontate in trasferta, tu vai sotto nel tuo momento migliore sia a Monza che a Salerno e poi non c'è più quella forza, quella vehemenza che ti porta a cambiare la partita. Ha detto che Senzola negli ultimi dieci minuti fa gol, stiamo parlando di altro, poi gli episodi chiaramente determinano anche il senso comune, facciamo diventare delle leggi calcistiche, delle cose che sono condizionate da episodi. La Fiorentina fa del possesso palla e del dominio del campo fa la sua caratteristica principale, quindi che tu lo voglia o che tu non lo voglia, di sicuro in alcuni momenti della partita questa cosa succede. Poi noi è ovvio che dobbiamo cercare di mettere in campo le nostre armi nel modo giusto e dare meno possibile alla Fiorentina la partita che vuole fare.